Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata numero 10, facciamoci fratonda, di Pillole di Bit. La volta scorsa abbiamo parlato dell'hard disk normale, quello a piattelli con il motorino che gira e la testina che legge, oggi parliamo di come funziona l'hard disk a stato solido, una novità di qualche anno fa all'interno del panorama dello storage, si è evoluta tantissimo ora, è performante, è stabile, sicuro e soprattutto molto molto veloce. Perché è molto molto veloce? Vi ricordate dell'esempio della giostra dell'altra volta? Adesso immaginate che al posto della giostra abbiamo un'enorme sala con delle sedie e cominciamo a far sedere le fantomatiche famiglie, partendo dalla sedia 0 fino alla sedia 1024, poi c'è la solita cosa del bambino che si alza, va in bagno, delle famiglie che vengono allontrate temporaneamente per poi essere riammesse, insomma c'è comunque il problema che a un certo punto queste famiglie non saranno più contigue. Il vantaggio del disco a stato solido è che nell'attimo in cui io ho bisogno di leggere uno di quei bigliettini, una di quelle frasi che hanno le famiglie, io chiamo la famiglia e la famiglia mi porta la frase, indipendentemente da dove è seduta, quindi sia che si è seduta nei posti 01234, sia che si è seduta nei posti 512, 15, 11, 1 e 99. Il tempo di lettura è sempre quello, perché loro ci metteranno sempre allo stesso tempo per alzarsi e venire a portarmi la loro frase. Se io devo togliere una famiglia perché non mi interessa più la frase che ha sul bigliettino, come nell'hard disk normale a piattelli, elimino la famiglia dal mio elenco. Nell'attimo in cui il disco non sta lavorando c'è un sistema che analizza l'elenco, vede quali sono le famiglie che non ci sono più, va nei loro posti e le caccia via. Di conseguenza, dopo un po' che io ho cancellato, lo spazio diventa effettivamente vuoto. Il disco a stato solido ha innegabili vantaggi di performance rispetto al disco normale. Abbiamo visto che, indipendentemente dalla frammentazione dei file, la lettura è comunque veloce, il consumo è molto più basso, non ci sono parti in movimento per quello che si chiama a stato solido, nel senso che se cade non si rompe fisicamente, cioè non si spezza in due, i dati non vengono persi. Se tolgo corrente i dati non vengono persi, ci può essere un problema se la corrente la tolgo per veramente tanto tempo, ma è irrilevante. Quali sono invece i contro? Perché tutti quanti compriamo ancora l'hard disk normale oppure degli SSD piccoli? Perché lo spazio per gigabyte è molto più alto, la tecnologia corre, si evolve, ma comunque costa molto molto più un hard disk a stato solido di un hard disk normale a piattelli. L'hard disk a stato solido ha un altro svantaggio, che nei primi dischi era sensibilmente pericoloso. Adesso diciamo che dà molte meno noie, ma viene sconsigliato l'uso dei dischi a stato solido in sistemi dove si riscrive tante tante volte il disco fisico. Perché questo? Perché la cella che memorizza i dati, che poi non è altro che un'evoluzione della memoria flash, delle chiavette USB, ha un problema di consumo, nel senso che più volte la scrivo più lei si usura. Dopo un po' queste celle smetteranno di funzionare. Il problema adesso è meno sentito, nel senso che statisticamente un hard disk a stato solido dura, più o meno come un disco a piattelli con un utilizzo normale. Quello che si fa per evitare questo consumo eccessivo dei settori, il controller del disco, che quando deve scrivere dei dati, scrive sulle celle che sono state scritte di meno. Quindi fa una usura costante e lineare di tutta la capacità del disco. Com'è che si fa per avere buone performance? Perché il rischio a stato solido è veramente veloce. Tenete conto che un PC Windows che normalmente parte in 40 secondi, anche un minuto, con un hard disk normale di un certo livello, su un SSD in 12 secondi è pronto. Com'è che, dicevo, si può fare una media? Ci sono questi dischi che vengono definiti ibridi. Praticamente c'è un grande disco a piattelli con il motore e la testina e affiancato c'è un hard disk a stato solido. Il controller, quindi la logica all'interno del disco e non il sistema operativo, si ricorda quante volte vengono letti determinati settori. I settori che vengono letti più spesso vengono spostati all'interno del disco a stato solido senza che l'utente se ne accorga, nel senso che per l'utente non c'è stato nessuno spostamento. Quando quel settore viene chiesto, la risposta arriva dal disco a stato solido. Facendo così significa che arriva molto più in fretta. Quello che Apple chiama il disco ibrido, se non mi sbaglio, è esattamente questo. Loro montano un hard disk normale, un hard disk a stato solido e gestiscono questa cosa qua. Ci sono degli hard disk che si chiamano SSHD che si possono montare su qualunque PC. Migliorano le performance abbastanza, non costano tanto cari perché la risposta a stato solido è tutto su moto piccolo, fa 8 giga. Però aumentano le prestazioni senza che si debba fare niente di particolare sul computer. Quindi se avete un PC lento che volete migliorare senza spendere troppo potete prendere uno di questi dischi. Se invece volete un sistema veramente molto performante potete permettervi di farci stare due dischi. Comprate un disco a stato solido da 128-256 giga che ora sono abbordabilissimi. Ci installate il sistema operativo e i vostri dati li tenete sul disco normale. Perché poi la lentezza del PC è data dall'accesso dei dati al sistema operativo che lui legge di continuo. Se usate Photoshop e Photoshop lo mettete sul disco normale l'apertura sarà un po' più lenta ma poi si lavorerà sempre molto bene. Di conseguenza se avete anche un PC vecchio e non avete bisogno di spazio eccessivo e volete migliorare le performance a parte che sia 7 perché XP lasciatelo perdere, ormai non è più supportato. Ci cambiate il disco e una volta cambiato il disco vi accorgerete che il PC va 3-4 volte più veloce con una spesa tutto sommato contenuta. Si parla di un centinaio di euro, 100-150 euro a seconda della capacità del disco. Quindi al posto di buttare il vostro vecchio PC e fare un sacco di immondizia potete cambiare il disco e vedere l'effetto che fa. Mi raccomando cancellate bene il disco che buttate via o che venderete. Abbiamo detto che c'è questo sistema che svuota le celle dei file cancellati quindi sul disco a stato solido quando viene dismesso non serve fare la cancellazione sicura perché questa è già fatta nell'attimo in cui il file viene cancellato o poco dopo. Vi ringrazio per avermi ascoltato ancora in questa decima puntata vi ricordo che mi trovate sul sito piloladibit.uropress.com mi trovate su Twitter a piloladibit mi potete mandare una mail a piloladibit.gmail.com mi trovate su Facebook potete iscrivervi al feed dal sito o su iTunes per avere le puntate sempre in automatico sul vostro lettore di podcast se usate iTunes e mi lasciate una recensione mi fate felice tutti i crediti audio e dei vari software sono indicati sulle pagine del sito grazie e alla prossima grazie a tutti